Uno spaventoso paesaggio di amore e morte! Ecco, che cosa sarà questo palcoscenico? Ora! Romeo e Giulietta al teatro Pietro Aretino, in scena gli allievi attori dei corsi junior della Libera Accademia del Teatro davanti a Coetanei. E se c'è qualcuno con una lama più dura di un muro, quello sono io, Samson dei Capuleti. Ah sì? E già che ci sarai spadre la sua lama! Stanno arrivando tutti i montetti. La mia spada è pronta, Gregory! Gli attori sono degli adolescenti, dei ragazzi che studiano teatro e gli spettatori sono altrettanti ragazzi adolescenti che vengono dalle classi delle scuole aretine che hanno partecipato al progetto. E quindi è un progetto particolarmente giovane. È tornato nelle scuole della città di Arezzo il progetto della Libera Accademia Allievi per Allievi, una formula originale rivolta alle giovani generazioni per sviluppare capacità critica, attenzione e sensibilità verso i linguaggi della scena secondo i principi della peer education. Fermatevi, messi, nemici della pace! Fermatevi, ho detto! C'è stata a terra le armi a un ordine! Pena la battura per tutti quanti! Tema della sesta edizione del progetto, le grandi opere di William Shakespeare. Che cosa vogliamo mostrare con questa piesta trale, oltre a un amore immortale? Il fatto che i ragazzi hanno bisogno di adulti che li sostengono, che li capiscono, che li guidano, cosa che non esiste assolutamente nella vicenda dei Capuleti e dei Montecchi e che i ragazzi hanno anche voglia di cambiare. Lì non ce la faranno, però forse grazie a loro, chiamiamolo sacrificio, il mondo, il loro mondo a Verona, cambierà. Chi lo sa? Noi speriamo.